Nel terzo trimestre 2012 l'occupazione in Toscana ha registrato un moderato aumento più 0,7% rispetto al corrispondente trimestre 2011. Il tasso di occupazione è risalito al 64,5% rispetto al 63,9% di un anno prima e al 64% del secondo trimestre. I dati sono forniti dalla Regione Toscana. Nell'ultimo trimestre del 2012 il tasso di disoccupazione toscano si è attestato sul 7,3%. Un anno fa nello stesso trimestre era quota 5,3% ma solo tre mesi fa raggiungeva quota 7,7%. In termini assoluti nell'ultimo trimestre sono risultate 124.000 le persone in cerca di lavoro in Toscana, 29.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima e 6.000 in meno rispetto al precedente trimestre. Resta invece elevata e preoccupante la disoccupazione femminile ancora sopra la soglia del 9%, per l'esattezza 9,2%. Forte il ricorso alla cassa integrazione nel periodo gennaio-novembre 2012, le ore autorizzate, poco meno di 50 milioni, sono state complessivamente equivalenti a 34.900 posti di lavoro a tempo pieno. Incidenza analoga per la cassa integrazione straordinaria in deroga, oltre 19 milioni di ore per ciascuna. Inferiori valori per la cassa ordinaria, circa 10 milioni di ore. L'incidenza del 43% per la cassa straordinaria, del 39% per quella in deroga e del 27% per l'ordinaria.